Questa è una cucina mobile, una delle uniche che ci sono in Italia che possono spostarci al momento senza bisogno di montare moduli perché è già autosufficiente come cucina per i primi pasti, per quelle cose lì, quindi è autonoma. Può partire immediatamente alla chiamata e non c'è bisogno di montarla perché è già montato tutto. Dal giovedì eravamo già operativi che abbiamo fatto le prime 120-130 persone e adesso sono in aumento quindi arriveranno a 230-240 volontari perché noi facciamo solo per i volontari un pasto caldo. Quindi se non ci fosse la nostra cucina o altre cucine molto probabilmente non ci sarebbero anche i volontari perché diventerebbe molto più difficile e la gente che viene da altri paesi non può fare un salto a casa, mangiare qualcosa e tornare. ma io devo andare via adesso. ma io devo andare via adesso! Grazie.